terza sveglia soltanto per dire che come era stato annunciato trovate sulla rivista il verri sul numero 75 che attualmente è in distribuzione tra tanti saggi e tanti materiali interessanti anche un mio saggio sull'origine della espressione scrittura di ricerca poesia di ricerca ricerca letteraria cerco di ripercorrere quelle occorrenze che in tal modo si in questa forma con questa modalità si si possono registrare nel corso del novecento e fino grosso modo ad oggi il saggio è piuttosto lungo e quindi è stato spezzato in due parti sul verri si trova adesso la prima parte e credo che possa essere interessante anche per rintracciare alcune affinità e alcune aree di scrittura e di ricerca artistica diverse e soprattutto notare come la ricerca non è qualcosa che compete esclusivamente alla scienza ovviamente ma neanche esclusivamente alla letteratura al campo letterario perché anzi la prima occorrenza che a me sembra di registrare è quella degli anni 40 con l'espressione music de recherche buona lettura per chi vorrà